Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei ragazzi del secondo piano Allora in compagnia di Stefano e Frecchi State imparando a conoscere il compare per diversi aspetti videoludici nei lenti del canale Vabbè poi speriamo che verrai ospite anche in altre rubriche Però vabbè poi colgo l'occasione per dire che ti ritroveremo molto presto Non diciamo dove, ma ti ritroveremo Esatto, esatto Ok Allora siamo qui perché, perché, perché vabbè Ovidio stemma lì sopra Quello che ci piace, i nostri cari videopull Sì, videopull, videopull Se non pulliamo moriamo Se non pulliamo moriamo, esatto Allora, c'è solo un piccolo problema C'è solo un piccolo problema Dovevamo, cioè io dovevo pullare per forza perché non c'ho neanche un giocatore della mia squadra Significa che non ho neanche un giocatore della Lazio E niente, c'ho stemma da Lazio Però, però che fa adesso? Che fa che esce? Nei giocatori selezionati di febbraio per esempio c'è Lazzari Andiamo subito a vederlo Vai, vai, vai Nei, ma che attuale Benzema ce l'avevo Io lì, io lì, io lì Vabbè, Anderson potrebbe essere quasi utile Caputo, no, te prego Ma come fa, arriva 80, vabbè Alla stessa ce la vedi Sì, sì Lazzari è qualcosa, ho 88 Che è rubato come valore È rubatissimo ma Quanto a due di velocità ti ha che non lo vedi Però è vero che sta a palla e è vero che corre Quindi io Appunto Vabbè, questo gioco comunque mi manca con la maglietta alla Perché io vorrei con la maglietta alla che ricorda lo scudetto del 2000 Allora, e poi, poi E poi c'è la fans choice della serie A Che c'è il grande e l'unico e inimitabile Cire Cire Eccola Allora, Ronaldo non mi interessa No, vabbè Si esce Che abbassino come valore 98 Non è in golanna mi serve Non è in golanna è buono Cire, ecco Cire 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 E così E così Belotti Piontek Mamma Cos'ha da 90 a Piontek Che Se beccavo Quagliarella Vabbè Quagliarella 75 anni di giocatore Vabbè Vabbè Sempre forte Perché poi Grande Dzeko Eccolo Il football Il perno della Roma E poi c'è il bufalone Mamma mia Il grande Io lo vorrei tanto Lo vorrei tanto perché comunque Il giocatore eccezionale Guarda Tiro 89 C'è Ma La cosa che stupisce È la velocità Forza 93 È la velocità Forza fisica Esatto Forza fisica Vabbè Ma questo non butti giù Manco se gli danno C'è lì Il dribbling non conta Perché comunque questo Mezzo si fa a sportellati Come si dice in gergo Vabbè Cominciamo subito Allora Eeeh Tanto non lo troviamo E ci stanno pure le leggende Da serie A Ah sì Vabbè C'è Maldini Caputo Olto Stankovic Dei abbiati Un pool rate Diciamo come Nocamoro Su Tsubasa Bastino A 20% Il problema Sono quelle palle Argento Vabbè Ma pure se te scisce La palla Cominciamo Ti passo Volentieri il pad Fatti la prima Dove dove vuoi cominciare Me la sento su Cire Vai Cire 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 Questo è il rituale Classico Dove tu fai finta di acquistare le monete Così il gioco pensa che tu le abbia acquistate Ma in realtà Speriamo bene Incrociamo le dita Dai Dai Voliamo Cire Cire Vabbè Di solito c'è l'italia dobbiamo vedere una maglietta bianco celeste dai gioco fai cose strane non fai cose strane non fai cose strane da roma siamo andati a beccarlo ci posso credere veramente non ci credo è lui il numero 9 oddio non ci credo non ci credo basta che non ci vuole 89 pietà 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 no oddio che schifo pietà pietà la distanza cognitivo orribile qua t'ha proprio trollato benissimo senti dai allora io 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 me butto su lazari non me può da gioco al primo amore fa cercare immobile te prego vabbè te prego italia c'è stanno parecchi italiani questa bandiera italiana l'italia francia ma da una palla a oro ma quale neymar ma che cosa faccio mamma paltì ma che cos'è il dijon persino offensivo giocherai mai tuo dio stai tranquillo probabilmente verrai scartato oppure convertito in allenatore per per lazzari vai qui poi va sempre fan choice ma aspetta fanno uno sui lazari faccio uno sui lazari fanno sui lazari senza pago la cosa vai sui lazari diretto vai si ma la sento ma la sento ma la sento che sta succedendo no ma la sento segno si ecco si e andiamo si 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 guardalo tiè ti hanno fatto pure la faccia bello 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 si si grande guardalo si si e non a piacere adesso Ciro qui non pulliamo più basta io non voglio un Eymar vai Ciro sono qui tutto il giorno vai Ciro c'è Simo guarda ne tiro una guarda ne tiro una se puoi da mettere la Roma ne tiro una chi è? c'è stanno pure le Valleoro chi è? il veloso fa tanti anni è prestato ieri sera i danni perchè i danni? non ce li avevi contro no per una Lazio per una la mattina allora vai dai dai che ha trovato Lazio ne trova messo immobile dai dopo la prima disfatta dai Ciro 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 la manizzata Lazio 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 tutta l'insegnata lazialità questa pullata ti tieni ma almeno siamo sicuri che è Italia chi è? un'altra volta Gomez un'altra volta il Papu ce ne ho otto dei Gomez che ce nemmo fa? vabbè ok 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 ce l'hai in tutte le sarse ma per carità ma è pure forte ma basta che ho otto ce l'hai in tutte le sarse ci lo metto a cadar qua tanto non muo da 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 chiesa buono dai chiesa buono buono chiesa buono buono maledetto chiesa ben buono beh pure lui sono contento delle faccchiezze le feste mi piace sono assomiglianti sotto quel punto di vista in un modo molto particolare te ne vai si gira intanto qui si mi piace di Ammar Worldcut non è che dice che è devo andare sul giro sei tu o nulla bravo vai 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 tenute 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 ho peccato pensa un po' di dare chi c'è da Sampdorio? guagliarella 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 80 anni guagliarella come fai a essere pallanera guagliarella però vedi ste cose 36 anni è rimasto un quarto d'ora del gioco a guagliarella rapace d'aria ma qual è rapace ma te prego ma per favore rapace d'aria ma chiude però c'è dato Lazzari no? guarda guarda se trovo Ronaldo sbrocco c'è dato Lazzari no? se trovo Ronaldo sbrocco c'è dato Lazzari no? ma non ce lo vuoi non da Ciro no ce lo devi dar Ciro dai 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 un'altra volta guagliarella ma veramente ma tu sei matto ma come si fa? chi è? oh almeno dammi un'altra guagliarella così lo può fare con quell'altro mi se può fare con quelli verdi quelli in forma del mese che finissi? per prima di guagliarella a uscire? uno dei due vabbè uno dei due non deve tardi però io non ho fatto così prima cosa? non mi cagheroso non ci interessa le merda più neanche dovevi dacci dai un guagliarella o ciro un guagliarella o ciro un guagliarella o ciro dai ti prego gioco ma tu lo vedi quella stemma lì? lo vedi quella stemma lo vedi? non ti sto neanche a chiedere un alto non lo voglio ronaldo te dico la verità non lo voglio ronaldo se dovesse ci insegurano se dovesse ci insegurano non metto un dubbio però noi stiamo cercando noi vogliamo ciro no noi vogliamo guagliarella 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 è lui è lui è guagliarella andiamo andiamo a prendere ciro a scambiare cosa può fare sei sicuro? andiamo a scambiare il nostro 36enne con ciro lo so io lo so io dobbiamo andare scambiare ok no sono quelli in base quelli in base si no quello lo sapevo perché non ti da solo base però è che non è comunque male ma se invece di scambiarlo subito fanno un ultimo pull e poi magari dopo come l'ultima cosa lo scambiamo c'hai ragione 870 monete non è che ti servono un po' c'hai ragione c'hai ragione c'hai ragione questo però che ha fatto in questo modo qua allora siccome io ieri ragazzi miei ho trovato fino dalla singola di un festival perché devo dire che in redown e tutto quanto no basta basta è il mio modo di fare chiudendo gli occhi funziona perché poi senti quella voce che ti fa no ma cosa vincevo però quando è finita tutta la cosa vediamo che è uscito no è lì ma che 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 è lì no no adesso bisogna no adesso bisogna fare una cosa fatta bene ragazzi dobbiamo andare a prendere Cristiano Ronaldo non c'è io speravo che se potesse prendere Ciro da quelli in forma non si può prendere quindi niente dei campioni vabbè si ci serve il triplo cioè abbiamo solo quagliarella triplo e no si scambia con Ronaldo non si scappa vai Cristiano confermiamo si io non è che voglio fare pubblicità occulta se voi avete benvenuto Cristiano ottimo un applausetto ci stava tutto comunque preso grazie a quagliarella grazie scambiare Ronaldo per quagliarella non male non male non male dai bene così anche se da laziali quali siamo io sono laziale volevo uscire vabbè fiorentina vabbè niente cire niente cire vabbè non è ancora detto però tra qualche tempo ci riproviamo ci riproviamo intanto l'azzari comunque ce lo siamo portati a casa l'azzari c'è che comunque c'ha 88 non è male come ce lo vuole è un buon centrocampista dovremmo metterlo sul nuovissimo modulo volendo che dobbiamo provare che è un 4 2 2 vabbè eccolo qua possiamo metterlo qui l'azzari volendo non c'è male non c'è male vabbè se mi si vede pure ronaldo ok ok per un attimo vardy vabbè no io direi che metti vabbè no è complicata ronaldo potrebbe giocare pure qui però perde tanti punti no lo so lo so non perde si va bene messi togliere vandoschi e mettero Ronaldo vandoschi come seconda scelta con Ronaldo messi qual punte c'è seconda punta a punta messi può giocare un po' ovunque messi gioca ovunque come punta perde qualche punto scusa metti messi cls e metti vandoschi in seconda aspetta perché nel prossimo episodio sicuramente andremo a provare una formazione molto particolare quello si nel senso si potrà fare anche questo di gioco non so se hai capito e magari centrale per dire proprio per dire oppure le vandoschi stesso vabbè vabbè allora vabbè che facciamo quindi io direi che questo video è tutto più ricordate l'escrizione comunque Ronaldo Ronaldo per quagliarella non so se avete mai visto qualcuno esultare più per l'azzo di che per Ronaldo va bene così dai applausetto a Ronaldo grande Ronaldo vabbè detto questa ragazzi io sempre invitiamo a seguirci su monime pagine profilo instagram mi ragazzi del secondo piano facebook dove volete insomma poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attiate la campanella per rimanere sempre sintonizzati e personalizzate le vostre notifiche scegliete la playlist che fa per voi seguite il format che fa per voi quello che vi piace se avete qualche bellissima storia da raccontarci riguardo i pull fatti su PES per esempio scrivetecelo nei commenti esatto per esempio per esempio qui sotto e poi vabbè niente detto questo io direi che per oggi da PES è tutto è proprio tutto da Ronaldo salutate il Dzeko abbiamo dato pure il Dzeko per i grandi tifosi della Roma c'era qualche tipo di Roma gli sarà un attacco cardiaco vabbè basta è degenerata abbiamo fatto pena ciao 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 a tutti